Siamo con Giuseppe Postiglione, editore delle Cronache Lucani.tv, nuovo progetto importante soprattutto perché è la prima TV All News H24 in Basilicata. In Basilicata c'erano state già altre esperienze televisive degli anni veramente molte, quelle che sono sopravvissute sono state poche, ma di All News che parlassero interamente lucano e solo del territorio lucano H24 non ce n'erano e abbiamo deciso di affrontare questa sfida importante in un'era nella quale gli investimenti mancano, di investire ancora nella comunicazione e di farlo con la televisione. Quali sono le principali caratteristiche e peculiarità? La nostra principale caratteristica è di essere solo ed esclusivamente un emittente che si occupa di informazione, quindi i lucani che vogliono rimanere informati sulle attività che si svolgono sul proprio territorio non hanno che da fare che sintonizzare il canale 622 e con un aggiornamento di circa ogni mezz'ora vedere quali sono gli aggiornamenti che hanno interessato il territorio. Settimanalmente poi abbiamo degli approfondimenti, specialmente la domenica, oltre che nei punti ora un TG Flash che condensa in circa due minuti e mezzo, massimo tre, i principali avvenimenti che si sono svolte in Basilicata. La motivazione principale che vi ha spinto a realizzare questo progetto? Il nostro gruppo è un gruppo editoriale importante che fa capo alla concessionaria di pubblicità che è la AGI, che già edita un quotidiano che è il Roma di Basilicata, oltre a curare la vendita per alcune delle più importanti emittenti radiofoniche, tra cui Radio Potenza Centrale, Radio Globo, Radio Eva. Diciamo che nel panorama, nel palcoscenico e nell'offerta comunicativa che il nostro concessionario andava a dare mancava semplicemente una televisione. Oltretutto c'era uno spazio che era ancora libero, che era quello appunto dell'informazione e abbiamo deciso di fare questo investimento che devo dire ci ha portato a fare tanti, tantissimi sacrifici, ma che ci sta già dando, nonostante sia da poco iniziata questa avventura, molte soddisfazioni. L'obiettivo preminente che vi prefissate? Diciamo che noi proviamo a fare una comunicazione di prossimità che serva soprattutto per cercare di indirizzare attraverso l'informazione anche la politica verso i reali problemi della gente, perché molto spesso manca una comunicazione di prossimità. È già successo, proprio per esempio, un esempio che è venuto sul Rio Nero per quanto riguarda anche la processione nei laghi di Monticchio dove abbiamo raccolto un appello, ci hanno mandato un video tramite Whatsapp che abbiamo messo in onda perché il battello di San Michele non avrebbe potuto attraversare il lago per delle questioni burocratiche e tramite questo appello fatto sulla nostra tv alla fine è intervenuto l'assessore all'ambiente che ha dato una deraga e ha fatto fare la processione. Ecco, questo è solo un piccolo esempio di quello che vuole essere il nostro modo di intendere la televisione come pungolo per la politica, per le istituzioni e per sistemare le cose che in questa terra non vanno. Un impegno non indifferente, quale è l'ambizione maggiore? L'ambizione innanzitutto si parla di tanta soddisfazione perché l'investimento, come dicevo, sia in termini economici che di sacrifici personali è tantissimo, quindi non pensiamo come nostra prima attività di farne un business da un punto di vista economico. Saremo particolarmente brave se di qui a due o tre anni saremo riusciti a portare i nostri bilanci in pareggio ma con l'ambizione di aver fatto qualcosa di positivo per la nostra terra.